SOFIA è il montascale di nuova generazione per le scale dritte e curve, dalla grande comodità e dalle forme morbide, firmate dal famoso designer Richard Seymour. È pronta all'uso in ogni momento, grazie alla batteria sempre in carica. È dotato di un sensore di sicurezza sul sedile, che permette la partenza solo quando la persona si è comodamente seduta, mentre un secondo sensore rileva l'eventuale presenza di ostacoli lungo il percorso. In tale circostanza, il montascale si ferma dolcemente prima dell'ostacolo. La nuova cintura di sicurezza può essere allacciata con una mano sola e il funzionamento è davvero semplice, grazie all'uso del joystick ergonomico, che permette di comandare SOFIA in modo intuitivo. Una chiave di sicurezza impedisce l'uso improprio del montascale. La poltroncina è girevole e ruota sia a destra che a sinistra, rendendo più semplice e sicure la salita e la discesa. Nel caso di scale che terminano vicino a una porta o uno spazio di passaggio, è possibile scegliere di installare la rotaia incernierata. Quando il montascale non è in funzione, la rotaia resta alzata, lasciando libero lo spazio. SOFIA è un montascale raffinato ed elegante. Potrai scegliere la versione che più si intona alla tua casa, selezionando tra i tessuti più classici e quelli vinidici, disponibili nei colori arancione chiaro, blu, rosso, verde, beige, avorio, grigio scuro, testa di moro, nero, crema, sabbia e lavanda. Il numero verde Stanna ti offre molte opportunità. Chiama subito l'800 89 81 11. Sì, chiama subito l'800 89 11.